Uomo e donna sono a immagine e somiglianza di Dio, non solo presi singolarmente, ma come coppie. Lo ha detto il Papa che ha dedicato l'udienza di oggi alla reciprocità tra uomo e donna. La differenza tra uomo e donna non è subordinazione. Soltanto nell'arricchimento reciproco, negli affetti, nel lavoro, l'uomo e la donna possono capire fino in fondo chi sono. Per crescere armonicamente l'uomo ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna, ogni essere umano ha bisogno di questa reciprocità. Con la teoria del gender invece rischiamo di fare un passo indietro, perché la rimozione della differenza è il problema, non la soluzione. Dobbiamo fare molto di più in favore della donna. La donna deve essere più ascoltata nella chiesa e nella società. Ancora non abbiamo capito in profondità tutte le cose che ci può dare il genio femminile. Abbiamo percorso solo un pezzetto di questa strada, ha detto il Papa.